Seconda edizione del Palio Tragozzi a Biceglie, l'appuntamento inserito nel programma del festival MacBot, la rassegna culturale di Biceglie a Prodi. Quella del Palio è una tradizione consolidata in tutta Italia. Tante città organizzano nei centri e nelle piazze storiche gare tra animali. Anche Biceglie ha il suo Palio. È una competizione tragozzi che si tiene sul porto. Dalla Darsena di Nord-Ovest il percorso termina con l'assalto all'imbarcazione ormeggiata e carica di derrate alimentari. È un modo per vivere la tradizione della pesca e della marineria locale, un'occasione per trasmettere cultura e conoscenza alla cittadinanza. Ripartiamo col One Se Pone Bot all'interno del festival MacBot 2020. È una manifestazione volta a ricordare le nostre tradizioni della marineria e praticamente abbiamo un piccolo palio, una rivisitazione del palio con i corridori della Biceglie Running che fanno una piccola staffetta e poi ci sono i gozzi che praticamente sempre con un percorso arrivano al veliero per l'approvvigionamento delle derrate, ricordando il vecchio palio, le vecchie tradizioni della nostra marineria.